Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, sto leggendo da parecchie parti, parecchi giornali, Giorgia Meloni e Gian Bruno di nuovo insieme l'annuncio ufficiale questioni di giorni. Quindi, non è che lo scrive un giornale, lo stanno scrivendo diversi giornali, diversi periodici, settimanali, mensili, alcuni quotidiani. Secondo me, secondo me, non si sono mai lasciati. Secondo me, sempre mia opinione personale, si erano messi d'accordo, stiamo lontani per un po', facciamo passare il clamore, sennò questi vanno avanti a parlare a vita di sta storia, e io ci faccio anche una figura, insomma, non proprio bella, no? Non proprio bella, visti i video e gli audio che tutti avrete visto, facciamo passare un po' di tempo e poi ritorniamo nella stessa casa, ma continuiamo a vederci. Infatti avete visto le dichiarazioni di Gian Bruno a San Valentino, la Giorgia è stata e sarà sempre la persona più importante della mia vita, eccetera, eccetera, e poi la Meloni che va a Natale a casa dei genitori di Gian Bruno con Gian Bruno, Gian Bruno che va al compleanno della Meloni, Gian Bruno che va alla festa lì, come si chiama lì, a Treiu, diciamo che i sospetti c'erano, adesso i ben informati dicono che l'annuncio ufficiale sarà a questione di giorni. Così dopo la burrasca scrivono potrebbe tornare presto il sereno tra Andrea Gian Bruno e Giorgia Meloni. Queste sono le indiscrezioni che circolano già da alcune settimane. Vi ricordate l'annuncio sui social di Giorgia Meloni che diceva a Gian Bruno da oggi la storia è finita, la storia è durata dieci anni, bla bla bla, netto e definitivo, ma col tempo l'annuncio è diventato sempre meno credibile e così sta per tornare il sereno. E con le sue parole quindi Giorgia non ha convinto tutti. La Meloni si mostra impenetrabile nella sfera privata e in realtà sembra essere totalmente diversa, molto più morbida, diciamo, di quello che sembra. Anche per esempio Fabrizio Corona ha voluto dire la sua su Meloni e Brangian Bruno. Secondo l'ex re dei fotografi, i due non hanno mai realmente interrotto la loro relazione. I rapporti tra la presidente e il giornalista erano rimasti sorprendentemente amichevoli considerando quanto lui avesse detto e fatto alle sue colleghe di lavoro. Gian Bruno ha lasciato la casa in cui abitava da tempo e questo l'hanno visto tutti e poi si è trasferito in un altro appartamento, non molto lontano però dalla casa della Meloni, proprio per poter vedere spesso la figlia. ma probabilmente non è che voleva vedere solamente la figlia spesso, voleva rimanere comunque lì per vedere anche la compagna. Naturalmente ci auguriamo il meglio per la coppia, anzi se tornano insieme benvenga, assolutamente. se la Meloni e Gian Bruno di comune accorto hanno deciso che quello che abbiamo visto è quello che abbiamo sentito, lui che si grattava, che faceva le proposte alle colleghe, se loro due hanno deciso che queste cose non sono importanti o che comunque magari la Meloni dice ma lui è sempre stato così, è un po' esuberante, lo ha sempre fatto, io l'ho conosciuto che era così, quindi probabilmente se i due sono contenti, come dire, contenti loro, contenti tutti, insomma. Ecco, in questi ultimi mesi molti sono siti e giornali che si sono interessati a questo. come vi dicevo prima, a parte le festività, non ha partecipato Gian Bruno solo ad Atreio ma anche al congresso annuale per i giovani tesserati di Fratelli d'Italia, il Natale, come vi dicevo prima, con gli ex suocci, e così il giorno del compleanno arriva la possibile conferma di un riavvicinamento. Durante una festa organizzata a casa delle due sorelle Arianna, Gian Bruno è stato avvistato uscire dalla casa da solo cercando di evitare gli obiettivi dei paparazzi. Gli indizi di una riconciliazione sono sempre più evidenti. Anche il settimanale Oggi ha sollevato l'ipotesi che Meloni e Gian Bruno abbiano ripreso i loro incontri privati in segreto. Persone poi vicine alla coppia, scrive il settimanale Oggi, non escludono che magari nei prossimi mesi possa esserci una ricomposizione ufficiale. Manca solo l'ufficialità, questo è il punto, ma sarebbe tutto praticamente ormai deciso. Bene, abbiamo parlato tanto di questo, naturalmente gli facciamo i migliori auguri. Come dicevo prima, noi abbiamo commentato, l'abbiamo scritto, molti hanno commentato e scritto. Poi, parliamoci chiaro, deve andare bene a loro. Se a loro quello che va bene, quello che è successo va bene, è qualcosa che non è poi così importante, se i due sono contenti così, contenti tutti. Bene, c'è comunque da essere contenti se una famiglia si riunisce per la figlia, per loro. Bene, avevano comprato la casa per spostarsi in questa casa più grande, vi ricordate? Questa villetta che avevano pagato un milione e cento, un milione e due. Benissimo, bene, una famiglia che si riunisce, se poi è così vero, perché magari non è vero nulla. Va bene così. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche l'altro canale, che si chiama Tele Italia Seconda Rete, dove poi trovate almeno un video al giorno. E poi questi video dei due canali di YouTube sono condivisi un po' sugli altri social, da Facebook a LinkedIn, a Twitter, oggi X, a Triaz, canale di WhatsApp, canale di Telegram. Arrivederci a tutti e buona giornata.